Il cacciamine Gaeta Il cacciamine di ordini ritrovati e ritenuti pericolosi. Buongiorno, sono il comandante Maurizio De Marte dell'Istituto Geografico della Marina. Ci troviamo oggi a bordo di nave Gaeta per il ritrovamento del relitto Gioberti della Seconda Guerra Mondiale. Il significato storico del ritrovamento del Gioberti è molto importante per la Marina ma per l'Italia tutta perché il Gioberti, una nave carica di storia, è stata protagonista di innumerevoli azioni durante il Secondo Conflitto Mondiale. 216 missioni di combattimento in cui in 12 missioni di ricerca del nemico ha partecipato a ben 6 battaglie navali ma anche a innumerevoli altre attività essendo una nave multiruolo, dal bombardamento contro costa al rifornimento delle nostre truppe, dalla caccia antisommergibile alla ricerca dei naufraghi. È stato protagonista di azioni molto particolari quando un rifornimento di benzina ha salvato addirittura una parte dell'Africa Corps che era rimasto assediato a Derna.